Un lungo applauso, tantissime persone ad accoglierla per l'ultimo saluto. Tanta commozione, tanto dolore, tante lacrime e tistezza per l'addio nel quartiere Mariconda ai funerali di Anna Borsa. La trentenne è uccisa nel giorno di carnevale, martedì 1 marzo, dall'ex compagno Alfredo Erra nel salone di bellezza dove lavorava come parrucchiera in via Tevere a Ponte Cagnano. Nella chiesa della Madonna del Rosario di Pompei, nella zona orientale della città a Mariconda, nel quartiere originario della famiglia, si sono svolti i funerali concelebrati dal parroco della chiesa Don Angelo Barra e dal parroco di Ponte Cagnano Don Antonio Pisani. Alla funzione religiosa stamani c'era anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, i sindaci di Salerno e Ponte Cagnano Faiano, Vincenzo Napoli e Giuseppe Lanzara. Una barra bianca dinanzi all'altare con supposta una foto di Anna, fiori bianchi, all'esterno striscioni e fotografie, lo stendardo del comune di Ponte Cagnano Faiano, in prima fila la mamma di Anna, fortuna romano, il papà Ettore e il fratello Vincenzo, tutti distrutti dal dolore. È stato proprio il parroco della chiesa della Madonna del Rosario Don Angelo Barra a rivolgersi a loro con un messaggio dell'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi. Una richiesta di perdono, queste le prime parole del sacerdote con un messaggio di fede, Il silenzio è l'atteggiamento più opportuno dinanzi alla morte e pacatezza, ascolto. È un atto di riconoscenza della nostra pochezza dinanzi a Dio. La fede è messa sempre in discussione, bisogna dare un nuovo senso alla morte di Anna. Le cicatrici non si cancelleranno, ma prenderanno la luce di Gesù, perché il dolore si trasforma e diventa luce. Il dolore non è mai una cosa semplice da accettare. La morte è la massima espressione di ogni distacco. Una morte atroce, una morte non voluta, ma in qualche modo causata. Un omicidio significa veramente entrare in una visione che non ci appartiene, non la sentiamo nostra e in qualche modo non solo non la sentiamo nostra, ma non ci sono le parole nostre, se non una presenza che può diventare un segno forte. Questa presenza però avrà solo un valore più grande per chi crede o chi non crede, nella misura in cui diventi un impegno concreto, un impegno alla riconciliazione, un impegno che non diventi sempre una rimedicazione di possesso, perché spesso dietro le violenze c'è questo. Non è stato facile prendere la parola dall'altare neanche per Don Antonio Pisani, parroco della Chiesa Maria Santissima Immacolata di Ponte Cagnano Faiano. Ci mancheranno i suoi occhi che esprimevano l'impidezza dell'animo. Un nostro grazie, ha detto visibilmente commosso Don Antonio, della tua presenza nella nostra comunità. A Ponte Cagnano Anna Borsa voleva costruirsi una vita, ma ha incontrato violenza e odio, la morte. Oggi in una dimensione nuova ci accompagnerà con il suo sorriso. La nostra danna, ci mancheranno i suoi occhi limpidi, che esprimevano la grandezza di un cuore e di un animo. Un messaggio di speranza, un messaggio di speranza che vorremmo come Chiesa anche dare ai giovani, di non fermarsi davanti alle piccole e grandi difficoltà della vita, ma avere anche il coraggio di denunziare quando ci si trova davanti a situazioni anche difficili da affrontare da soli. E' un messaggio ai giovani, soprattutto dopo questa grande difficoltà della pandemia, ad aprire gli occhi, agli occhi a un mondo che non può certamente diventare un mondo dove l'odio, la vendetta, la guerra prendono il sopravvento, ma come gli occhi stessi di Anna ci dicevano, limpidi, chiari, per una speranza nuova. Applausi 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 Applausi